La band del maestro Demo Morselli, il logo del centenario, il sottofondo delle canzoni di Ligabue e tanta tanta gente. Le celebrazioni per il centenario della Salernitana ieri sera in Piazza della Concordia sono stato un vero e proprio successo. In Piazza della Concordia appunto il comune ha fatto sfilare pezzi di storia, calciatori, allenatori, granata e ha visto la partecipazione di decine di migliaia di persone. Hanno presentato l'attrice e conduttrice romana Metis Di Meo insieme al Salernitano Matteo Amaturo. La festa, con le vecchie glorie Granata e non solo, era stata preceduta dal corteo di circa 3.000 salernitani di ieri pomeriggio. Una marea di gente proveniente da ogni parte d'Italia che alle 19.19 ha iniziato a colorare di Granata tutti i quartieri cittadini passando per il Duomo, il centro storico, Piazza Portanova e Piazza Malta. A capo del corteo c'era Ciccerocco, immancabile il coro, state tutti attenti che ha fatto scatenare ovviamente la piazza. Cori anche contro il patron Claudio Lotito, invitato ad andare via da Salerno. Nel frattempo, durante questo corteo, altre 300 persone hanno passeggiato con le bandiere sul lungomare prima della festa della Concordia. Bisogna anche aggiungere che, pur nel Vallo di Diano, a Sala Consilina e Polla nello specifico, sono apparsi striscioni e manifesti per dare gli auguri al secolo della Salernitana.